Il mio sogno mi ha portato fin qui, nei primi miei dieci anni di carriera, quindi sono curioso di capire nei prossimi dieci anni che cos'altro farò. Nella sua carriera non c'è solo il Gennaro Savastano di Gomorra, ma anche numerose altre serie, come Fargo dei fratelli Cohen, due libri, film d'autore e nuove avventure. Prima un giro nelle grotte, poi il palco di Piazza Nicola e Costa per l'attore Salvatore Esposito che a Castellana ha preso parte al secondo appuntamento di Festival Art durante il quale si è raccontato sia dal punto di vista professionale che personale. Dieci anni di Gomorra, il personaggio di Gennaro Savastano sei tu, sei la faccia di Gennaro Savastano. Com'è ora riuscire ad uscire da quel personaggio dopo dieci anni? La serie è finita due anni fa, è stata una parte fondamentale della mia vita, nel frattempo ho avuto la possibilità di fare tante altre cose, spero che nei prossimi dieci anni ne farò tante altre. Sono stato fortunato ad avere tra le mani un personaggio così complesso, così complicato che mi dava la possibilità di raccontare quello che da artista volevo raccontare. Quindi adesso a dicembre o entro l'anno dovrebbe uscire Piedone, la serie tratta dai film di Bud Spencer, quindi sto scrivendo il mio terzo romanzo, anzi forse può darsi che se troviamo un accordo ci sarà qualche sorpresa. No, no, per a parte di scherzi non mi fermo, faccio tante cose, quindi Genni per adesso è lontano. Un ragazzo umido, un ragazzo veramente che è stato il frutto dell'impegno, di un sogno, di una dedizione, un ragazzo che si è costruito dalle periferie, che ha fatto i lavori che fanno tutti i ragazzi normali, però ha avuto la grande forza di seguire questo suo sogno, questo suo desiderio di diventare attore. Noi lo aspettiamo magari Salvatore Esposito qui a girare qualche scena, non so di quale film o di quale tipo di serie gli voglia fare. Ero stato qui alle grotte in gita di terza media, perché eravamo al convitto nazionale a Lecce e poi da lì ci facevano visitare tutte le bellezze della Puglia, quindi c'ero stato credo ormai 25 anni fa. A proposito di Piedone, hai tenuto a sottolineare che non è un remake ma un omaggio a Bud Spencer, che rapporto hai con il personaggio e con Bud Spencer? Sì, la serie sarà praticamente un sequel perché sarà ambientata 40 anni dopo la fine dei quattro film dedicati a Piedone, il commissario Rizzo interpretato da Bud Spencer. Il mio personaggio sarà un figlioccio di quel personaggio, cercherà di prendere le cose positive, però in una chiave totalmente moderna, anche perché le botte di Bud Spencer erano solo le sue. Noi ci siamo inventati le botte alla Salvatore Esposito, vediamo se saranno, non dico all'altezza, ma almeno piaceranno. Dopo Comorra tantissimi registi internazionali hanno deciso di girare i loro progetti a Napoli perché affascinati da questa mia città così esoterica, così misteriosa, è stata tanto meravigliosa quanto potenzialmente tenebrosa, quindi tanti ragazzi, ecco prima parlavo con un ragazzo qui di Castellana che studia recitazione, che hanno deciso di studiare recitazione dopo aver visto Comorra perché volevano partecipare a progetti di questa portata. Poi io sono convinto che il grosso del lavoro lo debbano fare le famiglie e le istituzioni, soprattutto nei quartieri difficili, perché purtroppo ancora oggi quando un bambino, un ragazzo ha bisogno di un sostegno, di un supporto, se non ha la famiglia non ha nessun altro. Quindi io spero sempre che le istituzioni diano una mano, diano scuole di recitazione, ecco teatri, cinema, scuole calcio, scuole di pallavolo, di basket, per toglierli dalla strada, dargli un'opportunità che vada oltre quella di delinquere, va diciamo così.